Un pieno di musica e divertimento per tre giornate, dal 9 all'11 agosto torna al Marotta Cusica Festival, una manifestazione che è già entrata nel cuore e nell'agenda di cittadini e turisti. L'evento, che si svolgerà al Molo Arena, è organizzato dall'associazione MAF con il patrocinio del Comune di Mondolfo. In questa edizione avremo tantissimi artisti, molti artisti locali, che si alterneranno anche sul falco pomeridiano, il cosiddetto Sunset Stage, e sul palco principale, ovvero il Main Stage, sulla quale si concluderanno i concerti serali, si alterneranno molte band nazionali e internazionali e DJ a loro volta internazionali e nazionali. Band di spicco di quest'anno, la maggiore saranno i Dubiosa Collective, una band balcanica molto alternativa che calca i palchi nazionali e anche mondiali, da almeno 30 anni. E gli i-fade, della stessa giornata in cui ci saranno anche i Deng, di Gianni Roiatti, chitarrista eclettico famosissimo in Italia e in tutto il mondo. Mentre la prima serata sarà anch'essa molto importante, da citare ci sarà Tribal Lead, che sarà colui che concluderà la serata con un DJ set alternativo, con dei suoni molto tribali e particolari. Nel pomeriggio a che ora inizieranno a suonare? I concerti inizieranno alle 17.30 sul Sunset Stage, dove si esibiranno delle band che abbiamo personalmente selezionato e sono per lo più band locali. Sulla spiaggia del festival, oltre ad ascoltare buona musica, gli spettatori potranno partecipare a varie attività sportive come i corsi di soup. E la parte no gastronomica? La parte no gastronomica sì, che affidiamo ormai da anni ai nostri collaboratori del territorio, due attività in principale, che collaborano con noi appunto da qualche anno e che l'anno scorso hanno offerto prodotti top. Dov'è possibile acquistare i biglietti? I biglietti sono acquistabili sul circuito Ciao Ticket, che si può trovare su internet oppure tramite l'app Ciao Ticket. Abbiamo anche la possibilità di farvi acquistare i biglietti sia per le giornate singole che per i tre giorni complessivi, anche contattandoci direttamente sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i contatti e dove noi siamo comunque disponibili a rispondere H24, dove potete acquistare dei biglietti in edizione limitata, con delle scontistiche, per favorire appunto anche la popolazione locale. e abbiamo anche a disposizione un codice sconto, anche questo probabilmente solo in edizione limitata, che sarà MAF 2024, che potete sempre applicare all'interno del sito o dell'app di Ciao Ticket, dove potete acquistare appunto il biglietto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!